... Avvicinandosi a Fescia, sul lento tram che unisce questa città a Lucca, avremmo subito sulla strada la sensazione dello spettacolo nuovo e imprevisto che ci avrebbe offerto la Valle dei Fiori. A Fescia l'iniziativa e le possibilità economiche collegate alla natura del terreno hanno in breve tempo ottenuto il risultato del mercato estivo dei fiori di maggior movimento in Italia. E tra i fiori, primo tra tutti, il Garoba. Varietà comuni e pregiate, tutte di superbo splendore, distinte tra loro in colori e in nomi suggestivi. Claudia, Venere, Colomba, Vanna, Romana, Pinocchio. Allevano la pianta con cura amorosa nei piccoli divai dove mani veloci e attente depungono i nuovi gesti. Rappiantata a dimora nell'ottobre, la giovane pianta esplode in innumerevoli fiori durante tutta l'estate. Il lavoro spetta tutto alla mano dell'uomo perché la meccanizzazione è necessariamente limitata. La famiglia del coltivatore, uomini, donne, ragazzi, è tutta impegnata nei lavori dell'azienda, non molto pesanti, ma lunghi e pazienti. Si cercano spesso altri aiuti nella campagna vicina e la mattina per la colta, la ripulitura e la preparazione del fiore si svolge una piccola emigrazione dai comuni confinanti verso le zone floreali di pesce. Al mercato nazionale dei fiori in alcuni periodi verranno portati più di due milioni di garofani al giorno. Al mercato nazionale dei fiori in alcuni periodi, Al mercato nazionale dei fiori in alcuni periodi, Al mercato nazionale dei fiori in alcuni periodi,